La Sacala, io come ben sa sono del Consiglio di Amministrazione della Sacala, abbiamo approvato due giorni fa questa proposta che proveniva dal Presidente della Sacala per partecipare al bando dell'Enac sia per l'aeroporto di Crotone che di Reggio e credo che sia una grande opportunità al di là delle chiacchiere politiche che si fanno, è una grande opportunità perché forse si può realizzare quello che doveva essere fatto moltissimi anni fa di avere un'unica società di gestione aeroportuale calabrese, chiaramente capisce bene che le efficienze del sistema trasporto aereo saranno sicuramente notevoli avendo un unico gestore e questo fa sì che anche la stessa società Sacala possa essere sempre di più apprezzata e quotata anche nel sistema aeroportuale nazionale. Rossella Galati per l'Asci News 24